20 gli equipaggi selezionati prossimi a giungere a Bari da ogni parte della penisola e a formare la carovana di auto d'epoca che con il rombo dei propri motori andrà alla scoperta della Puglia più verde. Tutto questo è la terza tappa di Targa Puglia dal titolo Celebrità. Un nome frutto di un gioco di parole che accosta le province di Brindisi e Taranto e che a col tempo si pregia di esaltare il ruolo assunto nel panorama turistico internazionale dalla regione Tacco dello Stivale. Un appuntamento tanto atteso è presentato nella sede della provincia di Taranto alla presenza di numerose autorità. Le prime due tappe sul Gargano nell'ottobre 2018 e lo scorso maggio sulle orme degli storici castelli federiciani. Uno a tre giorni dall'11 al 13 ottobre prossimi per continuare a mostrare, gustare ed esaltare le bellezze paesaggistiche e culturali della terra di Puglia. L'emozione destata dai paesaggi in mozzafiato tra Ostuni, Manduria, Castellaneta e la Valle d'Itria si farà piena con la scoperta delle tradizioni, della storia e della proposta enogastronomica di un territorio affascinante e mai uguale. La partenza da Bari, poi la storica carovana, si muoverà alla volta di Fasano a seguire Ostuni ma anche Manduria del suo vino ed ancora la Valle d'Itria con i suoi scorci in mozzafiato. Ed in conclusione sarà provincia di Taranto a proporre bellezze e bontà. Insomma un evento di sport e promozione territoriale. Una particolarità di questa edizione è la partecipazione di alcuni ragazzi che seguiranno la tappa di celebrità a bordo di una limusine d'epoca a loro dedicata. A conclusione dell'Evocativo Tour della Regione organizzato da Targa Puglia, l'ultima tappa che porterà gli amanti delle quattro ruote alla scoperta del sud della Regione, il Salento. Gli equipaggi sono ormai pronti, la Puglia non attende che essere esplorata.